Prima che arrivino e arriveranno le segnalazioni dei tanti amici delle forze dell'ordine che ci seguono non puoi lasciare la pistola in macchina, cioè nella caserma ci sono degli luoghi appositi dove i militari che decidono di non portare dottoressa Bruzzone la pistola all'ordinanza con sé possono tranquillamente lasciarla, non la lasci in macchina perché se un banalissimo ladro d'auto o qualcuno che spacca il finestrino per rubare le monete trova la tua pistola all'ordinanza passi dei guai che sono immaginabili, quindi se tu ti porti la pistola è per un motivo determinato non è che porti la pistola e hai dimenticato di lasciarla in macchina, in macchina non lasci mai la pistola in macchina No, no, non è proprio possibile lasciarla in macchina, guardami comunque nella ricostruzione che è stata appena offerta in quello che sono le sue diciamo argomentazioni per giustificare il kit da perfetto squilibrato psicopatico che aveva in auto, scusate la franchezza, il fatto di dire che addirittura Manganello e Manette fossero oggetti ricordo della sua mamma defunta chiaramente prematuramente è una roba veramente agghiacciante guarda ne ho sentite di castronerie di ogni tipo da parte di narcisisti maligni per giustificare l'ingiustificabile ma devo dire che questa è quanto a gravità e a totale senso di davvero prese in giro è una delle peggiori che abbia mai sentito ma tu ti immagini se uno si tiene come oggetto ricordo della madre Manganello e Manette pensa a che livello stiamo arrivando Manca un proiettile Allora sappiamo che lui torna sui suoi passi e quando vede che la sorella della sua ex fidanzata è ancora viva e agonizzante la finisce, esplode un colpo di pistola L'ex fidanzata racconta di aver sentito altri due colpi dopo quelli esplosi e poi c'è un particolare che probabilmente non vuol dire niente dottoressa Bruzzone però il colpo inesploso accanto ai cadaveri può voler dire una cosa o che si è inceppata l'arma banalmente quindi ha scarrellato nuovamente per liberare la canna oppure che aveva già il colpo in canna quindi aveva già predisposto la pistola per sparare immediatamente ma al momento se ne è dimenticato e ha scarrellato per caricare nuovamente a questo punto ha espulso Sì, sono possibili entrambi i meccanismi anche se vista la situazione e visto il soggetto in questione è probabile che abbia gestito in maniera così estemporanea un possibile incepamento durante l'esplosione dei colpi mortali nei confronti delle due vittime Per carità, non cambia niente se però è entrato in casa col colpo in canna vuol dire che c'è stata una premeditazione al di là di ogni valutazione fosse un piccolo elemento in più per la premeditazione una pistola, soprattutto le pistole, le beretta la 92, dottoressa Bruzzone in dotazione La 92 dovrebbe essere sì se è quella diciamo in dotazione è la 92 Difficilmente si inceppano non sono pistole che si inceppano facilmente sono pistole che hanno... Beh ma questo, ripeto cos'altro doveva fare questo tipo per far capire che aveva delle problematiche serie scusatemi eh perché adesso ho visto una serie di interviste di gente che lo conosceva anche all'interno del mondo diciamo professionale che lo descrive come instabile imprevedibile estremamente diciamo portato a celebrare se stesso quindi aspetti insomma anche abbastanza macroscopici ora scopriamo che si rappresenta uno che si fa chiamare Psyco cioè sceglie come nome profilo Psyco ti dice ti ha aperto un mondo qualche campanello d'allarme ci dovrebbe essere e poi ti dice guarda che io che sono le donne quelle brutte e cattive no? quindi cioè più di questo cosa doveva fare sto qua? Roberto ci sono dissimi aspetta un attimo vediamo un attimo se c'hai i requisiti per tenerti quell'arma attaccata alle costole oppure no?